quando ti arriva a casa il prodotto giusto per la persona giusta e da un grande fan di john carpenter lo sapete metto le mano avanti no la cosa michael myers ma arriva a casa il gioco da cui il film la cosa di john carpenter ha preso ispirazione ovvero who goes there who goes there è il nome del romanzo da cui ha preso ispirazione la cosa di john carpenter un team di ricercatori fanno una scoperta e scoprono un'astronave aliena di natura ovviamente sconosciuta incagliata e rimasta lì congelata nel tempo e nei secoli vicino alla loro base sotto il permafrost andando a fare degli scavi in questo posto hanno tirato fuori hanno resumato un cadavere un cadavere congelato di una creatura aliena e da questo poi si si va a generare tutta quanta la storia del gioco who goes there che principalmente è un gioco cooperativo questo è un gioco operativo però come piacciono a me un gioco operativo al 50 per cento perché il gioco parte dove siamo tutti quanti alleati si gioca da 3 a 4 giocatori questa forse l'unica limitazione da 3 a 4 giocatori e siamo tutti alleati tutti umani però avete visto al fin la cosa quindi la cosa dopo un po all'inizio ci sarà giro per la base noi saremo tutti umani ma poi alla fin fine prenderà una o più membri del nostro team che saranno contagiati e c'è scritto anche nella scatola il modo migliore che ha la cosa per nascondersi è dentro di te iniziamo vedendo che cosa c'è all'interno la prima cosa che vede all'interno ha il gioco non è tradotto in italiano perché non ha penso sono anche loro come quelli di me sono sviluppatori ed editori quindi non so se verrà mai tradotto in italia qui abbiamo tutti quanti i token degli equipaggiamenti che troviamo vediamo se è double fast così li vedo da dietro sì vedete c'è la mazza la torcia la lanterna le barricate pugnali accette ma la cosa è vabbè il cane ovviamente il cane ci vuole nel racconto di john carpenter la cosa ma la figata secondo me è il lato crafting che ha questo gioco qui perché voi potrete prendere due o più oggetti che ne so vi faccio l'esempio se trovate il legno più il ferro che ricorda un po anche i giochi che ho trattato molto sul canale survival rust il legno più il ferro che ne so potete fare un accetta o potete fare un cortello oppure il classico strascio più la benzina potete fare una molotov perché vi ricordo che l'unico modo come nel film per ammazzare la creatura aliena la migliore è il fuoco il regolamento di 35 pagine in inglese non ci capirò mai niente scherzo ovviamente questi sono i tile della base le zone dove sarà possibile spostarsi all'interno del campo e della base le schede personaggio tra l'altro molto 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 cartonate e plasticose però devo dire la verità figa c'hanno addirittura la stamina l'attacco l'agilità e questa è la scheda del personaggio che se vi ricordate nel film di john carpenter mccready era interpretato da grandissimo kart russell con l'aggia fiamme oggetti carte mazzone tra l'altro disumano carti buildable e di qua ci sono oggetti invece che potremo trovare all'interno dell'avventura come medikit e altre cose poi c'è questa scatolina con scritto who goes there che serve bellina che ha tutti gli scomparti per mettere le carte almeno quando le dovete anche dividere giocare all'interno della partita non impazzite però loro mi devono spiegare una cosa perché all'interno c'è un mini pony rosa e poi ci sono cinque miniature all'interno del gioco cinque soltanto che sono i personaggi però vi dico la verità per quanto sono classico plasticone di omonon pvc sono veramente belline e fatte bene vi dico la verità mi piacciono veramente lui con la borsetta il dottore mccready col lancia fiamme poi abbiamo il cuoco e per ultimo ma non meno importante qui secondo me hanno avuto la giocata il cane il primo contagiato dall'entità aliena che non è non è presente nel gioco ma fa da muovi turno da muovi fase ma non è presente nel gioco ma fa da muovi fase questo è il campo di gioco che comprendono la base antartica che questa parte del campo vedete sono due tabelloni staccati quindi questa parte del campo è la base antartica e il centro nevralgico delle operazioni è la parte che dovrete fare il possibile per tenere al sicuro e in funzione e la parte esterna al campo che è la parte vera e propria dove sarà possibile cercare nei face deck e sono gli obiettivi principali del gioco perché nei face deck troverete tutto l'essenziale tipo mappe mappe cartine e tanniche di benzina per fare alla fine il pieno all'elicottero e scappare perché ricordo che lo scopo del gioco come nel romanzo ghoster e nel film di john carpenter la cosa lo scopo del gioco è quello per gli umani di andare a bordo dell'elicottero scappare e salvarsi la vita mentre per la cosa l'obiettivo è lo stesso ovvero arrivare a bordo dell'elicottero e nascondersi in mezzo agli esseri umani e arrivare nel mondo civilizzato per dare inizio veramente alla fine del mondo e contagiare tutta la razza umana queste sono le schede dei personaggi in questo caso questa è la scheda di gherry che è il capitano della stazione vedete ogni personaggio ha un valore di leadership e il personaggio col valore di leadership più basso è il capitano ogni personaggio quando inizia il gioco ha 5 dadi azione che sono questi che vedete qua su 5 dadi azione 3 dadi di stamina 2 dadi di stamina exhausted che può recuperare nel corso del suo turno di gioco in più varie abilità perché in questo gioco si passerà di livello prendendo punti esperienza e vari step che vedete che possono essere sbloccati appunto spendendo punti esperienza che ne so gherry con 3 punti esperienza prende la pistola con 6 punti esperienza sblocca nel caso un altro dado azione con 6 punti esperienza sblocca il suo dado di classe locker dice punti per l'inventario, nuovi posti per l'inventario e quant'altro questi qua azzurri che vedete sono i dadi azione come in qualsiasi gioco da tavolo che abbia la componente dei dadi e hanno due facce una con la fiammella che vedete qui che vuol dire successo e uno senza niente che invece vuol dire insuccesso o mancato questa invece è una scheda riassuntiva che ha ciascun giocatore ed è la scheda del crafting finiscono le componenti del tavolo una scheda con i tile ovvero con tutti gli oggetti che potranno essere trovati all'interno della base antartica quindi oggetti che potranno essere riutilizzati per la sopravvivenza siano essi giacchetti per resistere al freddo oppure armi da usare in combattimento contro la cosa e poi qua sul tavolo spostandoci da questa parte qua giù abbiamo il workshop ovvero tutti gli oggetti che mescolati insieme, mixati insieme, segnati qua su in cima ci consentiranno di costruire quei tile, quelle armi che avete visto principalmente lo storage dove invece si troveranno a parte qualche altro oggetto per il crafting però per la maggior parte qua giù dentro troveremo scorte di cibo, scorte di medicinali, munizioni tutto quello che ci serve da subito per la prima sopravvivenza mentre invece spostandoci all'esterno della base abbiamo i tre mazzi 1, 2, 3, i tre mazzi del face deck che sono, fate conto, delle casse all'esterno con non soltanto delle scelte, delle decisioni e degli eventi ma anche gli oggetti più potenti del gioco che ci consentiranno sommati insieme alla fine di andare a bordo dell'elicottero per lasciare l'avventura e per ultimo ma non meno importante il mazzo delle carte vulnerabili che ogni volta che un giocatore, secondo un evento o subirà un attacco in questo gioco e subirà un punto ferita dovrà pescare una carta e in queste carte qui sono tutte quante bianche all'interno, vedete? tutte quante bianche ma fra queste ce n'è una nascosta che ha una V rossa ed è una carta infetto il giocatore che andrà a pescare la carta infetto automaticamente diventerà la cosa come detto precedentemente vi ho fatto vedere che la scheda del personaggio è il personaggio che ha il valore più basso di leadership per capitano il capitano all'inizio di ogni turno dovrà girare un camp event un evento del campo, evento che andrà risolto subito appunto facendo un check di dado per vedere se i giocatori sono riusciti a superarlo o no se sono riusciti a superarlo non succederà niente nel 100% dei casi se non sono riusciti a superarlo si dovrà applicare la condizione che è scritta sulla carta in questo caso una ferita critica finiscono le componenti, i punti esperienza come vi ho detto si guadagneranno punti esperienza all'interno del gioco con azioni precise punto esperienza bianco che vale 1 punto esperienza blu che vale 5 e poi i punti ferita, i token di ferita che sono un token rosso per le ferite normali con 3 ferite in questo gioco si muore e un token verdino di questo colore che è una ferita critica questa ferita non solo conterà come ferita ma se non eliminata non curata con un first aid kit, con un medikit o dal dottore in persona per ogni turno che passerà vi darà una ferita normale perché diventa praticamente una ferita sanguinolenta e che da ferita critica vi darà degli strike normali l'ultima cosa e più importante del gioco è il clicker clicker che avrà ogni giocatore questo vedete ha un colore verde e uno rosso se messo in questa posizione starà a dire che il giocatore è umano se messo invece in quest'altra posizione starà a dire invece che il giocatore è stato contagiato ed è diventato la cosa questa è la cosa più importante perché tutti i giocatori devono tenerlo segretissimo perché quando capiterà che verrà mostrato un altro giocatore sarà la vostra unica carta, unica, per dare credibilità alle vostre azioni e alla fine andare a bordo dell'elicottero per scappare in un turno d'azione classico del gioco bisogna ricordarsi soprattutto tre cose la prima che il capitano, quello che avete visto, che ha la leadership più bassa all'inizio del turno dovrà fare variazioni per dare inizio al turno prima di tutte deve muovere il cane che è l'indicatore del turno sul primo quadrante saltate quello grigio perché quello grigio è per delle regole avanzate del gioco e per la modalità hard mode fatto questo il leader deve risolvere quello che c'è scritto sul tabellone e subito girare una carta evento che va risolta immediatamente e nel caso nella carta evento esca un lucchetto la base sarà chiusa e quindi i giocatori da dentro non potranno andare fuori e quelli fuori non potranno andare dentro sempre da tenere importantissimo la salute della porta della base, della camp door perché con tre strike come un qualsiasi personaggio verrà distrutta e se la porta verrà distrutta e non riparata quindi mettiamo caso la porta subisca tre strike da degli eventi o dalla cosa e venisse distrutta ogni volta che ci sarà un fine turno e quindi un calo di temperatura all'esterno il calo di temperatura colpirà non soltanto i personaggi all'esterno della base ma anche quelli all'interno della base finché la porta non sarà riparata la boiler room è l'unica cosa che ci consente di tirare un dado e nel caso di un successo sprecando un'azione recuperare un punto stamina perso perché ovviamente fa calore all'interno della base se questa dovesse subire tre strike non è come la porta verrà automaticamente distrutta tutti i personaggi all'interno della base subiranno un punto ferita chiamati strike in questo caso rossi e la boiler room sarà completamente distrutta e non riparabile quindi non sarà più possibile all'interno della base utilizzare la boiler room per tirare il dado e recuperare un punto stamina nel caso la boiler room sia stata distrutta come detto precedentemente i giocatori avranno la possibilità di recuperare punti stamina senza più tirare un dado ma recuperandoli automaticamente accendendo un bonfire per accendere un bonfire tutti i giocatori dovranno buttarci 5 carte ogni turno quindi fate conto come se le stessero scartando dovranno buttarci 5 carte e il giocatore ha disegnato usarci una carta accendino oppure fiammiferi sopra per accendere il bonfire e una volta acceso il bonfire restere attivo fino a fine del turno e tutti i personaggi all'interno della base quindi non all'esterno all'interno della base potranno recuperare automaticamente due punti stamina senza tirare nessun dado ci sono due fasi importanti prima della fine di una fase che sono tre vedete prima fase seconda fase terza fase di gioco sono due fasi in cui nella prima si dovrà mangiare quindi in questo turno quando il cane arriverà qui sopra a parte subendo tutti quanti malus alla stamina del freddo che ci sono come in tutti i turni bisognerà fare una prova di mangiare quindi se i giocatori non avranno del cibo in scatola o della roba da mangiare snack non valgono subiranno un punto una vulnerable card quindi avranno la possibilità di essere infettati dalla cosa e nella fase successiva invece sarà una fase di sleep ovvero di sonno dove i giocatori per forza di cose stanchi e stremati dall'avventura dovranno riposarsi e dormire se decideranno di dormire insieme non succederà niente di particolare almeno che il giocatore infettato dalla cosa non si riveli per fare un attacco o se decideranno invece non fidandosi l'uno dell'altro di dormire in spazi separati e quindi non fare gruppo insieme con turni di guardia per la notte se dovessero dormire separati tutti e due i giocatori o più che dormiranno separati dovranno pescare una carta vulnerabilità perché è in quel momento che la cosa li attaccherà quando il cane arriverà in fondo al suo percorso ovvero sulla H di elicopter tutti i personaggi dovranno andare ad abbordare l'elicottero e qui inizierà una fase del gioco abbastanza delicata vi ricordate che vi ho detto che c'è un leader che è quello che ha il valore di leadership più basso in questo caso Gary e vi ho detto anche precedentemente che cercando le mazze phase troverete delle carte tipo benzina, mappe e cose varie che vi daranno un bonus a scappare con l'elicottero il bonus che dovete raggiungere, ovvero eguagliare o superare tra umani per scappare con l'elicottero è dato dal numero dei player in gioco umani quindi contate anche quelli morti moltiplicato per 6 in questo caso se tutte e due sono umani prima di salire e rivelarsi a bordo dell'elicottero tutte e due sono umani, sono due giocatori per 6 12 quindi dovranno avere un numero di carte pari a 12 o più in due ovviamente, sommando quelle del gruppo per prendere l'elicottero e scappare ma nel caso uno dei due giocatori a bordo dell'elicottero fosse la cosa quindi fosse l'infetto i suoi punti non verranno sommati a quello dell'umano ma verranno sommati alla prova per incrementarne il numero e renderla più difficile quindi questa parte è importante perché solo il capitano, il leader disegnato, sarà il primo a salire a bordo dell'elicottero e sarà lui a decidere chi potrà salire con lui in questa fase non ci si può attaccare, rivelare, uccidere non si può fare nient'altro bisogna prendere la fiducia del capitano in tutta la partita del gioco per questa fase delicatissima dove sarà finalmente il capitano a decidere chi salirà a bordo dell'elicottero quindi se il capitano ha dubbi su un giocatore che quello sia la cosa può tranquillamente rimuoverlo dall'elicottero lasciarla alla base farne salire un'altra e andare via e nel caso abbia ragioni sono tutti umani avranno vinto la partita invece nel caso abbia portato a bordo dell'elicottero la cosa il mondo sarà finito intanto ci scusiamo perché oggi c'è brutto tempo fuori l'illuminazione ragazzi è quella che è poi siamo in un soppar che quindi abbiamo dovuto fare le riprese senza il cavalletto e verranno leggermente mosse tranquilla abbiamo ordinato lo stabilizzatore per fare le prossime comunque questo bene o male sommariamente il gioco come vi avevo detto vi voglio parlare del gioco delle peculiarità ma senza entrare nel vivo del regolamento perché sennò davvero poi con la mia parlantina e l'ogoroico come sono avrebbe un video di tre ore e mezzo comunque il gioco è molto interessante a me piace veramente molto ti cala nell'ambientazione della cosa ti sembra davvero di essere nel romanzo comunque nel film successivo della cosa di John Carpenter è molto bello mi sento di dargli un 7 meno come voto perché se ne parlava ieri sera dopo aver finito la prima partita effettiva che abbiamo fatto io, mia moglie e il mio amico Pippo allora il gioco c'è tutto le regole sono semplicissime funzionano è veloce immediato dopo il secondo turno tutti i giocatori sapranno già quello che dovevano fare quindi bene no? nel senso si muove da solo il gioco si spiega da solo molto cooperativo però c'è un problema se prendiamo ad esempio Battlestar Galactica te hai paura già dal primo turno di chi possa essere il Silone perché il Silone non ha lo stesso obiettivo dei giocatori ma è quello di non tanto di arrivare a Cobol ma di distruggere il Galactica no? e tutta quanta la flotta qui nel gioco non è così perché la cosa il personaggio infettato deve fare le stesse cose che fanno tutti gli altri umani quindi gioca per salvare il gruppo perché lui non può scappare a bordo dell'elicottero da solo ma ci deve essere un umano quindi deve stare attento fondamentalmente che gli umani non crepino che almeno ne rimanga uno con le carte buone si deve nascondere ma deve comunque sempre andare a bordo dell'elicottero e scappare quindi alla fin fine non è il dubbio cioè non ti viene mai il dubbio durante la partita di chi possa essere la cosa perché tanto anche se io sono umano quello umano e il terzo giocatore è la cosa che me frega a me se è la cosa tanto combatterà accanto a me sanguinerà come me morirà come me durante gli eventi ha bisogno di riscaldarsi se non muore dal freddo in più dà punti all'elicottero quando si arriva alla fine loro avrebbero dovuto un pochino più puntare su questo fatto qui cioè magari mettere carte sabotaggio una cazzata è venuta a mente ora mettere carte sabotaggio da giocare a nascoste nel mazzo di qualcun altro per sabotare l'azione cioè il problema è che il giocatore della cosa gioca come un qualsiasi altro umano quindi a te non ti viene mai il dubbio che il tuo amico possa essere la cosa mai e questo è il punto leggermente a sfavore che andrebbe rivisto li do 7 meno perché come prezzo è spettacolare come gioco è bellissimo come regole è molto divertente e originale come carte sono disegnate da paura bellissime anche lo stile molto cartoon ci sta fa la sua smorza un po' i toni veramente gotici e horror che aveva l'ambientazione di John Carpenter e ci sta assolutamente l'unica cosa è che l'avrei voluto leggermente più passatemi il termine 100.000 volte pvp perché il giocatore che interpreta la cosa dovrebbe in tutti ammazzare cibarsi mangiare distruggere le operazioni dovrebbe fare qualsiasi cosa per fermare i giocatori se il suo obiettivo è quello come tutti gli altri di arrivare a bordo dell'elicottero ti rendi conto di chi è la cosa quando ormai è troppo tardi e l'hai preso in tasca comunque il gioco ve lo consiglio primo link in descrizione se volete comprarlo vi lascio direttamente il link per l'acquisto è un gioco molto bello divertente da fare in gruppo per passare una bella serata horror e niente le do un 7 meno però quel meno è soltanto per questa regola qui se non mi sentirei di dargli un 7 pieno perché veramente merita e dai ragazzi ci sta se siete amanti di John Carpenter e della cosa non ve lo potete far scappare che dire io spero il video vi sia piaciuto e fatemelo magari sapere nei commenti ci vediamo alla prossima bleh grazie a tutti